Rappresenta la quarta causa di morte nel mondo, dopo le malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e i tumori delle vie respiratorie. E in Italia, oltre 3 milioni di persone ne sono affette. E il diabete, una delle patologie maggiormente diffuse nel mondo. Nelle sue varianti, il diabete è strettamente connesso con le cattive abitudini alimentari e con la disinformazione riguardante le cause di questa malattia. Per questo, la fondazione italiana Diabete Onlus ha contribuito alla realizzazione del volume Guarda che cosa mangi, guida ad una corretta alimentazione per pazienti con diabete mellito e non solo. Edito da Baldini e Castoldi e che si configura come un vero e proprio manuale alimentare che raccoglie la composizione nutrizionale degli alimenti, indicando con precisione il contenuto di grassi, carboidrati e calorie. Guarda che cosa mangi, come nasce l'ideazione di questa guida alimentare? L'idea nasce dalla dottoressa Giuse Coppola, nostra sostenitrice amica, presidentessa dell'Associazione per il diabete di Palermo, che avendo frequentato molto gli Stati Uniti ha ritenuto che non ci fosse in Italia uno strumento, come c'è invece in America, un manuale per dare informazioni soprattutto ai diabetici, ma non solo, in merito al contenuto in termini di carboidrati, proteine e altre informazioni sui cibi. Per cui ci ha proposto di portare avanti lo sviluppo di un manuale similare in Italia ed ecco che siamo arrivati a presentarlo. La guida è stata presentata all'Hotel Majestic durante un originale press lunch che ha previsto anche la realizzazione di un menù a basso contenuto di grassi e carboidrati ad opera dello chef Filippo Lamantia. Un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi correlati ad una malattia che può essere tenuta sotto controllo con una sana alimentazione. Quanto è diffuso il diabete in Italia? Molto, parliamo di 5-6 milioni di soggetti affetti dal tipo 2, altrettanti circa che ancora non lo sanno ma già ce l'hanno, e un 10% di questi numeri invece è il tipo 1, che come ho detto ha un'origine diversa, è una malattia autoimmune ma poi produce risultati similari. Il libro Guarda come mangi che ha prodotto la Fondazione Italiana Diabete è importante non per i pazienti diabetici, non solo per i pazienti diabetici ma per tutta la popolazione in generale perché sono linee guida che dovrebbero adottare tutti o per prevenire il diabete tipo 2 o per gestire meglio situazioni di sovrappeso che stanno diventando epidemiche anche in Italia. Alcune delle migliori misure di prevenzione indicate nella guida? Ovviamente un'alimentazione sana e parlo del solo tipo 2. Il tipo 1 al momento non ha una prevenzione attuabile, il tipo 2 sì perché colpisce soggetti che sono sostanzialmente obesi, che non hanno né una corretta alimentazione né un corretto stile di vita. Una maggiore attenzione all'alimentazione può sicuramente prevenire l'insorgenza del diabete.